Partiti! E' in vantaggio rimbomba davanti a Rampuffinran, Piccinette, Tacma, Soldier My Off Life, l'arte eccellente Dragoppo e White Flower. E' in vantaggio rimbomba davanti a Tacma, Piccinette, Soldier My Off Life, l'arte eccellente Dragoppo e White Flower. All'inizio della curva prosegue in vantaggio rimbomba davanti a Tacma, Piccinette, Soldier My Off Life, Rampuffinran, Tuerredda, l'arte eccellente Dragoppo e White Flower. Poco prima dell'ingresso di tour è sempre in vantaggio rimbomba davanti a Tacma, Piccinette e Soldier My Off Life. E' in vantaggio rimbomba lungo la corda davanti a Tacma, Rampuffinran per linee interne, a centropista Piccinette, più all'esterno Tuerredda e Soldier My Off Life. E' sempre in vantaggio lungo la corda rimbomba avvicinata da Piccinette, seguono White Flower, Tuerredda, Dragoppo, passa Piccinette davanti a Dragoppo, rimbomba, White Flower e l'arte eccellente. Passa Dragoppo davanti a Piccinette, rimbomba e l'arte eccellente. I più attesi al traguardo, ma la vittoria del numero due Dragoppo, Pasquale Borrelli con perfetta scelta di tempo, filtra per linee interne e viene a rimontare una eccellente Piccinette numero cinque, con rimbomba ancora in quota a difendere il terzo posto.